Bopbobbobbó Bopbobbobbobbbb Bopbobbobbobb Grazie, grazie caro, tu sì che hai occhio Bopbobbobb Buona giornata a tutti E' a S sn che ha parlato, sai Richio? E' manchicare Richio Salutale una a uno Chi ti saluta uno a uno che ha ci mamone salutato Bopbobbobbobb E' manchicare si dice Alla se mi chiede bene, non mi chiede bene Come ti dice buongiorno Non la salutare eh, comunque, buongiorno a tutti, buongiorno per a voi, da togno buongiorno ma che bello buongiorno, che mi riesco a l'odio eh, 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 ti dico eh, ti dico ma tu mi stai sento che parlo, mi dico chi hai? ma se siamo una buona voce dire eh, ma sui tu mio, se esprima tanto buono no, ma no, chi su, parla avvocato, come parla ecco, meglio che io se esprima eh, eh, ti capisci di colori, sai oddio, se parlaresti piano piano, se non ti ammogiori, se non cominci a parlare ma tu ti parli, ti capisci a riamore eh, ma io tu è sensibile, è emozionato come viva tutta una volta eh, non potevi dire che scendiamo a uno a uno dal tavolato comunque, io mi portavo a Lucenso Lucenso? sì, Lucenso con un pezzo di formaggio con i verbi o Lucenso? senza formaggio ne mangiamo Lucenso? no, no, non pezzo di formaggio senza verbi ah, uno e uno uno e uno sì, senza verbi si hanno portato con il vermicello oggi, oggi ma oh Dio mio che schifo, maledetto che l'occhio come c'è di schifo? ma portano a chi non c'è di barra le persone povere del tuo gioco ehi, calo! ma mi manco muccia, calo! ma come ti vesti? bene, diciamo che hai metto tutti i colori ti manca solo il rosso, poi? è stato perfetto la nucia accesa ma questo è malato è un indonesio perché secondo me se tu va saremo tutta l'ottugno sono, 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 sono sono, sono, sono da vita sono da vita con certina vedessero che sono uccusi siete una sarta no, sono uccusi e mi sono ucciso i macellai paracchie! sei una sarta è un po' di ragazza che possiamo scambicciare guarda, vi saluto e ne vediamo dopo eeeh, come vado a mangiare? benifici via! che abbiamo uscio adotte con cezzina mia e restati qua ragazza persa restate su sui sitiglioni guarda, guarda, guarda 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 ahhh Essa è sempre... Gen, Gen, Gen. E io vorrei a sapipipipi... 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 Allora Бибbibbipipi... Sapipipipipipi... Ah... Beh, beh, beh... Beh, chi si succede? E chissà ci una cucetica? Dici cosa c'è? Cucucca! Sì, cucu! Sì, cucu! O la locale 12 e 54 Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? C'è C'è o il tuo può essere? Non c'è mai? No! Non esiste proprio! Chi 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 non può? Non può essere! Perché mamma mia e mamma tu con una coca! Ahahah! Come disci, buona! niente, e questo non ci mangiare come la mia è quella che stanno combinando non si attacciona si, 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 si lì e che è questo? sono su scelta e che cosa è che? ma levo calma a rispetti encima voglio dire io non so se quando gli occhi ma vado a dire lo vedete che è bella e poi oltre ad essere bella è anche brava Saludenza, salugina, tu so che hai banchi animali, no? Se hai delle bacche, i gucci rifulano. Se hai delle pecore, magari irritanti. E poi se hai un asinello che è di bella freddo, ma te ne fai uno scambicciato di gucci, che mi dici? Ma vabbè, unico di stupida, c'è una grafica, c'è tutta stessa, c'è qui. Il dico è mascolo. No, 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 non tu la sei masco. No, 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 stai qui, pecore, io, no, sì. Che sperimento. Che speritosa. Ma allora, il colore, tu che dici? No, 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 non è possibile, non, no, no, non è possibile. Emanuele? Eh, spiazza, sì. È bellissimo, non è che non vi piace. Cucù, 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 cucù. Cucù, ma mi sei matitato a me, ora. Sposta la lancetta di un'ora, non vuoi che fare. È come tu, cucù, cucù, cucù dice. È che, è che, è chi, è chi, è chi. chi è? è un cibo? chi è? non mi mi concentravo su cibo non mi mi concentravo su cibo non mi concentravo non mi concentravo sono capace o vado a me solo? a 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